Mary J's AFM Ciao Ehi Come state? Io spero tutto 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 molto bene I capelli mi vanno sempre dappertutto Ok, dovrebbe essere bello Ciao conciolotti miei Grazie ancora una volta per essere ritornati sul mio canale A guardare i miei contenuti rilassanti Oggi è un video molto semplice Video trigger Visual trigger Che spero Vi Rilassi Oggi Oggi voglio presentarvi L'Uma Bruco Che porto nelle mie live su TikTok E un altro piccolo esserino Che ha un suono pazzesco Non le ho dato ancora un nome Poi Intanto Mettetevi comodi Indossate Le auricolari Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E attivate E attivando la campanellina Per rimanere aggiornati Su rilassamento E lasciate un like Al mio video Se vi piace E di enorme supporto e sostegno Per il canale E un vostro like Grazie Bene Andiamo A vedere L'Uma Bruco Che suoni farà Eccola qui La trovo La trovo Divina Oh divina Oh divina L'Uma Bruco Divina Il visual trigger E' anche bellissimo Questo gioco di colori Arcopaleno Arcopaleno Top rilassamento Estabante La trovo La trovo Esa Quot O Prima Paseguirlo 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 Grazie a tutti. E' fantastico il tocco di un oggetto, fa tipo una sorta di tracing, come il disegno. Grazie a tutti. 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 Poi abbiamo lui, il pieno credo sia di palline al polistirolo, ma vorrei dire una cavolata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pazzesco. Ma poi è profumatissimo. Grazie a tutti. 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 Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao piccoli. Ciao piccoli.